Perchè vorrei invece spostarmi all'ultimo tema, ogni anno viene pubblicato dall'agenzia congiunta dell'ONU e della coordinazione mondiale per il commercio, del WTO, la classifica sull'International Trade, il cosiddetto International Trade Center, questa è l'agenzia congiunta tra ONU e WTO che fa la classifica della competitività dei vari paesi nel commercio mondiale, il dato è ancora sul 2014 purtroppo, però ce la dice lunga sulla capacità o meno che possono avere le nostre imprese, i nostri sistemi di impresa di esportare. Professor Marco Fortis che è firma del Sole 24 Ore, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano e Vice Presidente della Fondazione Edison, buonasera. Buonasera. Ci dica prima del traffico come ci siamo collocati anche nell'ultima classifica dell'International Trade Center e poi dopo il traffico andiamo a analizzare i vari settori produttivi. Sì, è una classifica che si riferisce appunto al 2014, peraltro i dati sono molto recenti perché per poter fare una classifica su 189 paesi ci vogliono alcuni mesi e qui l'Italia su 14 settori del commercio mondiale nel 2014 ha confermato le sue prime tre posizioni nell'abbigliamento, nei prodotti in cuoio, nei tessi dei prodotti tradizionali, ma soprattutto ha conquistato 5 secondi posti immediatamente dietro alla Germania su 189 paesi nella meccanica non elettronica, cioè gli apparecchi, le macchine industriali, nei mezzi di trasporto, nei manufatti di base che comprendono metalli, ceramiche e nei manufatti diversi che comprendono per esempio occhialeria, prodotti in materie plastiche, un piazzamento che si completa poi anche con un secondo posto negli apparecchi elettrici ed elettronici, tra cui gli elettrodomestici e un sesto negli alimentari trasformati. Allora, tutta la classifica e l'analisi dettagliata la trovate oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine dei commenti e delle inchieste, però dopo il traffico vorrei appunto andare sui singoli settori, lei parlava spesso di medagliere se non ricordo male, oro, argento, bronzo ed erano 100 i prodotti in cui a livello mondiale noi ci collocavamo o al primo o al secondo o al terzo posto. Qui parliamo più di settori che di singoli prodotti, però vale la pena ricordarli anche per questa classifica dopo il traffico 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia Allora, vediamo Professor Fortis i settori in cui ci collochiamo al primo posto, ma anche i confronti con Germania, Cina e Stati Uniti. Prego. Dunque, il settore che in assoluto è più importante per noi, che si trova al secondo posto dopo la Germania, è quello della meccanica non elettronica che ha fatto nel 2014 un export di 108 miliardi di dollari, con un surplus commerciale si va di bene di 72 miliardi di dollari, quindi è un settore dove siamo estremamente specializzati e dove l'Italia ha superato in molti campi, dalle macchine per imballaggio a molte macchine utensili, anche la Germania negli ultimi tempi e questo è anche uno dei settori che ha il maggior numero poi di prodotti in cui siamo nei primi, secondo, terzo posto a livello internazionale. Poi molto interessante è vedere tanto che nonostante la perdita dei prodotti a più basso valore aggiunto nel tessere, nell'abbigliamento, nelle calzature, nella pelletteria, l'Italia rimane comunque ai vertici dei prodotti di lusso e di grande fama mondiale attraverso i nostri marchi in questi tre settori e soprattutto… Quindi siamo al primo posto anche come tessere, prodotti in cuoio e abbigliamento. Sì, esattamente, dove qui abbiamo delle esportazioni, dei surplus commerciali rilevanti, oltre quasi 8 miliardi di dollari nell'abbigliamento, quasi 5 nel tessile e circa 12 e mezzo nei prodotti in cuoio e calzature. Poi è interessantissima soprattutto l'ascesa degli ultimi anni dei mezzi di trasporto… Siamo secondi a livello mondiale dopo la Germania. Sì, come si spiega questo? Perché tutti sono abituati a pensare magari alla crisi dell'auto solo recentemente riscattata con il grande recupero della Fiat, ma in realtà abbiamo nei mezzi di trasporto la leadership di yacht, di lusso, la leadership negli elicotteri, la leadership anche nelle navi da crociera e numerosi posizionamenti importanti anche nei cicli, nei motocicli. Quindi complessivamente se ci aggiungiamo anche il forte recupero dell'automobile italiana e il rilancio della Fiat e della Ferrari si capisce come nel complesso in questo settore ci posizioniamo piuttosto bene. Un altro campo in cui siamo cresciuti… Si faccia notare che sui mezzi di trasporto la prima è la Germania, la seconda è l'Italia, gli Stati Uniti sono al 33esimo posto, la Cina al 27esimo. Lei citava la meccanica non l'elettronica in cui siamo secondi dopo la Germania, ma anche sui componenti elettronici siamo secondi dopo la Germania? Sì, qui la denominazione dell'International Trade Center è componenti elettronici, ma in realtà si intende tutti gli apparecchi elettrici anche per la trasmissione dell'elettricità, non solo gli componenti elettronici e poi sono inclusi anche gli elettrodomestici, dove comunque l'Italia nonostante la perdita di competitività di alcuni segmenti del bianco diciamo basici conserva ancora importanti posizioni di leadership, soprattutto poi anche nelle apparecchiature elettriche, negli strumenti che riguardano la distribuzione dell'elettricità. Quindi nel complesso direi che nel settore meccanico, considerando apparecchi elettrici e anche il posizionamento nella meccanica non elettronica, l'Italia ha un posizionamento rilevante che si completa poi con i prodotti in metallo, che sono tutte quelle produzioni che spaziano dalle catene alle infrastrutture metalliche per l'edilizia agli attrezzi semplici in metallo, in cui anche lì siamo secondi soltanto alla Germania. E faccio notare che invece nel settore alimentare, le note dolenti a mio avviso sono, nel settore alimentare sugli alimenti freschi siamo 33 esimi, la Germania è 25 esima, gli Stati Uniti quinti. Ma anche sugli alimentari trasformati, noi siamo sesti e la Germania è prima. La dimostrazione, l'abbiamo raccontato più volte, però la Germania esporta più di noi, il doppio di noi in prodotti alimentari, anche se uno potrebbe restare basito. Qui c'è il problema, e lo dico perché ne parleremo anche più avanti, della dimensione delle nostre imprese e della capacità di presidiare i mercati. È una battaglia che portiamo avanti, c'è la tutela del Made in Italy, c'è l'Italian Sounding, però poi bisogna anche dirla tutta, se le imprese non acquisiscono certe dimensioni o non si mettono in filiera, in rete, è difficile che riescano a presidiare questi mercati, da lì la potenza della Germania, uno immagina che la Germania faccia tutto, ma dice che esporti alimentari trasformati più di noi e invece è nettamente più forte. Prego Fortis. Qui bisognerebbe però anche precisare che negli alimentari trasformati bisognerebbe distinguere quelli a debole trasformazioni, come il latte, eccetera, che ci hanno sempre visto anche per debolezza politica in Europa, per denti, e prodotti invece a più complessa trasformazione. Se si scindessero le due cose si vedrebbe in realtà che l'Italia nei prodotti come la pasta, i prodotti della panificazione, l'industria dolciaria è posizionata in maniera molto importante. Guardi, è vero, tant'è che ne abbiamo parlato anche quando durante l'Expo trasmettevamo appunto in un'occasione dal Cibus, è vero che noi in realtà diamo maggior valore aggiunto a quello che trasformiamo. Trasformare il latte, il valore aggiunto è poco. Trasformare il latte in grana padano, parmigiano reggiano, il valore aggiunto è altissimo, quello che in più tu ci guadagni. Però, detto questo, siamo sesti la Germania è prima. E anche l'altra cosa che mi ha sorpreso, i prodotti in legno, perché il legno arredo non ho capito se venga contemplato completamente. No, questo è un problema. Infatti, mentre negli altri settori c'è una distinzione tra le materie prime e i prodotti finiti, curiosamente questa è forse una debolezza di questo indice, mette insieme le materie prime, che l'Italia non possiede assolutamente, con l'export di mobili. Quindi, in questo caso, la posizione italiana è nettamente sottostimata. In realtà l'Italia è il secondo esportatore mondiale e ha la migliore seconda bilancia commerciale del mondo dopo quella cinese. Soprattutto anche qui, come nel test di abbigliamento, nei prodotti di alta gamma non c'è partita. L'Italia è decisamente il paese sempre leader, che ha forse solo nelle cucine un competitor come la Germania che le dà delle difficoltà, ma per il resto siamo posizionati ai livelli massimi. Allora, al di là del fatto che, lo dico a chi scrive, non me ne frega nulla se uno scrive Renziano o non Renziano, ma non capisco cosa ci sia di Renziano, di filo governativo, nel dare merito alle nostre migliaia di imprese dei numeri che hanno ottenuto nel 2014 sull'export. A parte che non c'era neanche Renzio nel 2014, ma comunque non è in merito del governo. Diciamola tutta, insomma, non è né merito né demerito del governo, si tratta di meriti o demeriti delle nostre imprese, dei nostri modelli di impresa, di come si sono strutturate, della capacità che hanno avuto di presidiare i mercati o non presidiarli, di unirsi, non dico fondendosi, ma almeno stando in rete, oppure di continuare a pensare che piccolo è bello e piccolo invece è solo piccolo e via così. L'ultima domanda che ho per lei è quella più di attualità, così chiudiamo dove siamo partiti. Siamo partiti sulla Cina e sulle previsioni di ieri della Banca Mondiale, rallentamento dell'economia mondiale. Oggi addirittura c'è chi, il numero uno della Fed di Richmond, se ho ben visto, adesso vado a riprendere l'agenzia che dice che non possiamo escludere un elemento recessivo nel 2016. Poi giudizi molto diversi delle banche d'affari, ma al di là delle analisi, lei quanto teme questo rallentamento cinese? Perché oggi ha colpito in borsa soprattutto i titoli auto, ma nei giorni scorsi avevano perso parecchio i titoli del lusso. Lo teme a livello globale o lo teme a livello cinese? Perché noi non siamo così, è importante la Cina, però lei spesso ci ricordo come in valore la Cina ancora non sia un paese fondamentale per il nostro export. Io non credo che questa crisi cinese possa determinare degli effetti devastanti sul commercio estero italiano. Il vero problema è che più che altro tutto il rallentamento degli emergenti già da tre trimestri ha trasformato quello che una volta era un contributo positivo che il commercio estero dava un po' a tutti i principali paesi manifestatorieri, non solo a noi ma anche alla Germania molto più che a noi, in un contributo negativo. Oggi i paesi europei, ma anche gli Stati Uniti, crescono soprattutto con la domanda interna. Se non comprendiamo questo non ci rendiamo conto che ci manca un'importantissima leva di politica economica e la tesi lungamente prevalente della Germania, secondo cui la cosa più importante è esportare tantissimo, essere competitivi per crescere, ormai fa acqua da tutte le parti. La Germania, nemmeno lei, cresce più con l'export. È importante da una bilancia commerciale attiva e questo vuol dire avere più crediti che debiti verso con l'estero, ma una volta che abbiamo ottenuto questo risultato il contributo al PIL del commercio estero con tutti questi emergenti fermi finisce con ridursi a livello negativo. Quindi è importante rilanciare la domanda interna e qui purtroppo il vero elemento mancante alla politica europea è la forza di un piano giunto di un mercato interno. E chissà, io l'ho detto molte volte, abbiamo fatto la puntata sulla Germania 31, l'abbiamo replicata per le vostre richieste ieri, l'altra volta sul podcast, non posso tornare a parlare di Germania, però chissà che avendo delusioni anche sul suo export fuori dall'Europa non si convinca che serve far rianimare, occorre rianimare il mercato interno dell'area euro. Grazie anche a Marco Fortis, a chi mi dice ma come dimensione piccole garanzie di super eccellenza? No, guardi l'eccellenza la fa il piccolo, il medio e anche grande, abbia pazienza. Ho detto che per l'export, se uno poi si limita al mercato interno, le dimensioni sono importanti, non serve solo fondersi, esistono piccole imprese che sono piccole e non nane perché sono in una filiera positiva del valore, per cui sono fornitori di imprese medio grandi che poi esportano, non è che o stai in filiera o ti aggreghi o ti fondi, ma insomma restare da soli per andare in questi mercati non significa essere piccoli, significa essere nani, che è una cosa diversa. Grazie, è tutto per oggi, un auguro da Sebastiano regione di buona serata.